Lunedì 20 settembre partirà nelle strutture ospedaliere del Piemonte la somministrazione della dose addizionale, cosiddetta terza dose, di vaccino anti-Covid. La prima categoria interessata sarà quella dei pazienti immunodepressi, secondo un elenco di patologie definite da una circolare del Ministero della Salute. I soggetti da vaccinare saranno 1.723 per il verbano Cusiossola e 5.112 per Novara. I vaccini utilizzati saranno Pfizer e Moderna. In vista di questa nuova fase della campagna vaccinale, nei giorni scorsi la Regione ha provveduto all'estrazione di una prima lista dei nominativi delle persone interessate sulla base dei dati presenti sulla piattaforma vaccinale e le ha trasmesse alle aziende sanitarie perché potessero procedere a comporre le agende. Si tratta in tutto di 52.911 soggetti in Piemonte che verranno chiamati direttamente dai centri specialistici presso cui sono in cura. Persone in attesa di trapianto o trapiantate, in chemio o radioterapia, affette da HIV, con insufficienza renale cronica, con malattie da immunodeficienze primitive, acquisite o congenite e altro. Gli stessi centri che hanno una conoscenza diretta della situazione dei singoli pazienti avranno anche il compito di affinare la lista dei destinatari della dose aggiuntiva perché per alcune patologie indicate dalla circolare ministeriale serve una valutazione di tipo clinico per l'inclusione o meno di un soggetto in questa lista.